Questa esperienza è andata molto bene, è stata molto divertente e arricchente. Mi porto nel cuore la gioia, la capacità di lasciare andare e di focalizzarsi sui propri obiettivi in maniera leggera e divertente. Consiglio questa esperienza a chiunque abbia la voglia di riscoprire se stessi e di scoprire quante opportunità ci sono nella vita e quante cose si possono ancora fare e ci aspettano. Sono arrivata senza aspettative, mi sentivo bene ma non sapevo bene cosa mi aspettasse. Adesso torno a casa con tante consapevolezze, con la voglia di seguire i miei obiettivi e soprattutto di amare me stessa. Tutto è possibile se lo vogliamo, ognuno di noi dovrebbe darsi una possibilità di superare i propri limiti. Torno a casa con la consapevolezza di ciò che voglio e già da subito comincerò a ritagliarmi del tempo per me stessa e soprattutto per seguire i miei obiettivi ma sempre con gioia e leggerezza. Ringrazio Patrizia per l'opportunità che mi ha dato, per tutto l'evento come è stato organizzato in maniera veramente perfetta e a volte anche se ci sono stati dei momenti di paura o di uscita dalla nostra comfort zona alla fine tutto serve per noi stessi, per metterci alla prova, per superare i nostri limiti ma sempre con divertimento.